Mi pare una risposta un po' burocratica, scritta probabilmente dai funzionari, che lì ci siano dei servizi di qualità è un fatto, non è un caso, io ho fatto la battaglia per avere i soldi, per realizzare la casa, poi tutti i servizi, però non sono sufficienti, tanto più in questo periodo in cui siamo costretti a stare con la mascherina aumentano ahimè un po' i contagi e quindi diciamo che quella casa della salute va aperta il sabato mattina, intanto, primo. Secondo, vanno potenziati i servizi per tutte le risorse che lo Stato sta mettendo, che l'Europa mette, sono tutte per potenziare i servizi territoriali. Questa casa della salute serve oltre 50.000 persone, tutto quello che non è ospedale, uno non si capisce perché deve andare a Pesero, a Urbino, a Fano, addirittura peggia ancora in Emilia Romagna, quindi direi all'assessore Saltamartini di venire a fare un suo proluogo, rendersi conto di cos'è questa casa della salute, quante persone serve, e di mettere i soldi che transiteranno dallo Stato nazionale e dall'Europa per potenziare i servizi territoriali. Mi pare tutto sommato che sia anche, diciamo, nei primi passi della politica di questa giunta regionale. O è così, oppure si sbaglia. Non c'è bisogno solo di un ospedale nuovo a Pesero, che è la BC, perché è 200 anni che c'è quella struttura ospedaliera, e quindi la devono realizzare in ospedale nuovo. Poi l'ospedale unico, l'ospedale nuovo, l'ospedale nuovo. Poi dopo serve solo il comprensorio pesarese o tutta la provincia, quello si vedrà, però c'è bisogno di un ospedale nuovo. C'è bisogno di rafforzare sui temi che abbiamo detto e che i due consiglieri regionali hanno posto con interrogazione, cioè la consigliera Vitri e il consigliere Biancani. E sono la medicina sportiva, perché uno deve andare a Pesero? Qui ci sono decine, decine, decine di società sportive. Le politiche per il lavoro, ci sono tantissime imprese. Ecco, non ridico le cose che ho già detto. Penso che l'assessore possa ritornare a ripensarci e poi se arrivano, come arriveranno, tante risorse, è il caso di aumentare gli specialisti. E se uno deve andare per forza in ospedale, ci va. Però, come si sa, i servizi territoriali sono fondamentali per evitare i ricoveri ospedalieri. E sono fondamentali per trattare le persone nei luoghi dove abitano e evitare anche di spendere tanti quattrini, perché i ricoveri ospedalieri poi costano. Grazie a tutti.